17 tonnellate di pellet con marchio di qualità contraffatto sono state sequestrate dagli uomini delle fiamme gelle di Chioggia. La merce si trovava in uno dei magazzini di un imprenditore sessantenne della zona contenuta in un migliaio di sacchi da 15 chili, su cui era stato apposto il marchio risultato poi falsificato. Quel marchio che garantisce la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati e costituisce una garanzia di qualità. Ulteriori verifiche hanno poi permesso di accertare che il pellet che sui sacchi riportava la scritta made in Croazia in realtà arrivava dalla Bosnia. Pertanto i finanzieri hanno anche contestato la falsa indicazione dell'origine del prodotto. Il pellet è stato sequestrato e messo a disposizione della procura. Due persone invece sono state denunciate, l'imprenditore e un altro commerciante della provincia di Gorizia ritenuto il grossista. Entrambi sono accusati di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, reati che prevedono la pena della reclusione fino a otto anni.